Salve carissimi amici di youtube e bentornati nella sua finta di camera mia quest'oggi parliamo di Morgan Lost numero 15 intitolato I Canti dei Morti scritto da Claudio Caverotti, le matite sono di Cristiano Spadavecchia la copertina come sempre di Fabrizio De Tommaso la storia in realtà è molto semplice vediamo una ragazza avvicinarsi al mare dove arrivano i soliti morti per mano di Morgan Lost e questi morti per l'appunto cominceranno a raccontare le loro vicende i loro scopi, i loro obiettivi, le loro ambizioni come questi li abbiano portati a diventare dei serial killer e successivamente lo scontro contro Morgan Lost alcuni saranno serial killer, altri tenteranno di compiere solo un omicidio o avranno compiuto solo un omicidio ma risulteranno tutte storie piuttosto brevi ma molto interessanti dal punto di vista psicologico per quanto riguarda la personalità di questi antagonisti la parte del leone ovviamente è ad opera di questi personaggi non tanto della ragazza che sembra essere la protagonista di questo albo che scoprirà nel corso della storia di essere stata lei stessa una omicida che avrà affrontato Morgan Lost a sua volta peccato che non ricordi in che momento e che per l'appunto nessuno sia in grado di vederla di interagire con lei tranne gli altri morti uccisi proprio per mano di Morgan Lost Morgan Lost qui avrà un ruolo ancora più defilato del solito mentre negli altri comunque compie delle indagini qui li vediamo affrontare questi strani avversari che vediamo solitamente sul mare li vediamo sulle loro sedie provenire dal mare finalmente conosceremo un pochettino di queste personalità ma Morgan Lost li vedremo semplicemente nell'ultimo scontro contro di loro e quindi ben poca indagine ben poca modo di far emergere il personaggio che risulta ancora una volta messo da parte a favore di ciò che sta succedendo o a favore degli antagonisti di turno che hanno una personalità più forte del protagonista mi piacerebbe vedere nelle prossime storie una maggiore concentrazione proprio sul personaggio di Morgan Lost e di far emergere un pochettino di più il suo carattere il suo modo di essere che finora si è abbastanza limitato ad essere un cacciatore uno che fa delle indagini ma di lui conosciamo effettivamente il passato tragico non il suo stato emotivo attuale mi piacerebbe vedere anche più continuity quindi rivedere quello che è successo nei primi numeri rivedere come si è evoluto se si è evoluto ma devo dire che per quanto non sia un albo indimenticabile risulta comunque un albo godibile ben scritto interessante per quanto riguarda Villain e per quanto riguarda la protagonista di questo numero nello specifico per quanto risulti piuttosto strampalato il motivo che sta dietro al fatto che lei si sia dimenticata e come lei abbia poi compiuto ciò che ha compiuto risulta più una scusa ecco per mostrarci i casi degli antagonisti secondari dei Villain che vediamo solitamente provenire dal mare che non un modo a mio parere interessante di proporci la trama della protagonista di questo albo risulta ripeto comunque un albo piuttosto godibile molto interessante proprio per tutta quella marea di Villain che vengono mostrati ma mi aspetto nel prossimo numero maggior azione, maggiore indagine visto che ricorda di Elizabeth sembra già dalla copertina e dalla premessa un albo molto molto interessante detto questo noi ci vediamo ad una nuova video l'opinione del canale ciao